Dirigenza dell'Acregas, che lavora sotto traccia per la composizione del nuovo mosaico, sembrerebbe proprio così. Secondo alcuni media bene informati, l'ultima indiscrezione riguarderebbe l'attaccante classe 91 Gianmarco Piccioni, marchigiano di San Benedetto del Tronto, figlio di Enrico Piccioni, anch'esso ex calciatori, però di Perugia, Cremonese in Serie A e di allenatore di calcio con trascorsi in Bulgaria e Malta. Anche lo stesso Gianmarco ha seguito le orme del padre, andando a giocare all'estero, ma da pochi anni è ritornato in Patria per indossare le maglie di Messina, Cireale e Matera. Gioca da prima punta e dal 2020 ad oggi ha segnato complessivamente 24 reti. Per quanto riguarda la difesa, dopo la riconferma di Alfonso Cipolla, c'è un interessamento per Roberto Vitulo, classe 98, la scorsa stagione allecata, ma in passato con Nocerina, Aprilia, Lamezia e Sagataldese. Comunque nel lembrino della dirigenza biancazzurra ci sono anche molti e diversi agricentini di valore che hanno fatto esperienza in altre squadre di categoria. Se sono fiori, sicuramente fioriranno.